Stabilito collegamento manuale. Marine, mi senti? Allontanati dalla console. Non chiamare rinforzi. Non sappiamo cosa diavolo stia succedendo. E fino a quando non lo sapremo, questa zona rimane sotto il controllo della UAC. Annulla la trasmissione. Stabilito collegamento satellitare. Trasmissione interrotta. Hai fatto la cosa giusta. Fino a quando non sapremo cosa succede, dobbiamo mantenerci isolati da tutti. L'entrata della monorotaia sembra scompera. Incontriamoci lì. Dobbiamo raggiungere il complesso Delta e agire. Marine! Hai appena disobbedito a un ordine diretto. Riporta il tuo culo a quella console e trasmetti il messaggio. Questa è la tua ultima possibilità per tornare a quella console. E inviare il messaggio come ti è stato ordinato! Tipo... Grazie a tutti. Grazie a tutti.